Gente qui è proprio da buio, paranoico, fammi la luce qua, qui è tutto chiuso, qui è chiuso, no vieni vieni, solo così posso registrarvi, c'è una porta aperta, ecco qua si può registrare, oh gente guardate, che bello, ci stanno facendo lì, non c'è il lucubro lì da salire, guarda che tetto, gente Villa Pallavicini, Genova Villa Pallavicini, abbandonata da vent'anni, impalcatore, che grande, guarda qui, cos'è un bagno? c'è il bagno? la Villa non male, andiamo su, facciamo due foto, eh sì, qui ci dovevano costruire poi, poi ci sono le scale qua, però se è troppo buio, qua, qua c'è la mia, guarda, ma che grande, ma che bellezza, guarda, guarda, ma che bellezza, ma che bellezza, ma che bellezza, ma che bellezza, mi vedi a come la Villa, che salone, gente guardate, qua c'è, guarda che pazzesco, è enorme sta sala, qui la murata, è grande c'entra si attenzione qui si sentono i soffitti guardate gente madonna che bellezza mamma mia che meraviglia gente sentono i soffitti guardate ci abitano no 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 c'è delle colonne allora ci andiamo bellissimo un po' qui cosa sarà qua chiuso ma guardate come era stupendo pensa quando era eh quei disegni mia sì 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 però sì 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 sei bella che bella ci bella bella su bella mio qua c'è altro ah ci siamo già stati qua vero allora dove si va? a due piani forse? solo due piani? solo due piani ah? siamo stati qua sì allora c'è altro piano solo due piani? vabbè però è bella un po' buio le scale qualcosa si vede sentite voci perché ci abitano vicino ma queste non sono antiche ci sono stato il comune qua ve lo vedi queste lampade? si che c'è una mia voce ah ecco allora vedi eh chi vuole altre stanze cosa stai facendo? altre stanze gente guarda 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 Andiamo a camminare così perché ora saliamo qua, un altro piano, due piani, ne? Non ho capito, è bellissima, ma guarda che meraviglia, mamma mia qui è buio gente. Bisogna stare attenti di che, qua buio, anche a me mi batte il cuore, è tutto rovinato, bello, peccato. Facciamo lì, ah qui si scende, ma è grande, gente ma è enorme. Facciamo un culo, fino a farsi vedere. Tutto spasciato qua, vedi la finestra quella? E' il vento. Guarda, guardate che robina. Guarda, beh, dovete dovre чуть moremmati. E' un disastro! E' un disastro, gente. tutto crollato meglio che facciamo il giro dobbiamo fare attenzione perché c'è dei rompicoglioni che abitano vicino e chiamano i vigili perché noi non siamo l'urbex ma è stupenda gente sei curiosa? guarda che scale ripide ripidissima ah questo è il come si chiama? la mansarda si è la mansarda la mansarda gente senti che caldo qui è vero? senti alla prossima no ci sono Grazie a tutti. Ecco il bucone. Ora andiamo a vedere l'altra parte. Tenta quando scendi. Sono ripete. Ah no, questa è qui. E qui si dovevano fare i lavori ma poi è mollato tutto. La cucina mia. Attenzione che c'è la casa del porco. Dio. Perché c'è la persiana chiusa. Questo bagno. Ma guarda un po'. Guardate. Vedete ora. Ho fatto vedere. Ma guarda quanto ce n'è un altro. Non, non tanto. Ah, è sempre un aberto. È sempre un amassato? Si, un amassato. Sì, più giù. Ecco, c'è un amassato da questo. Ora scendiamo. Continuiamo. Sì, continuiamo. Cosa? Sì, prima voglio completare. Sennò poi devo spegnere. Poi facciamo le foto. Sì, è un amassato. Sento che è un buio qui. Sì, vedete che c'è ancora. Ma qua si va giù. È grande. Ma ci sono le tende. Ma pensa. Gente, con le tende non lascia fuori. Cos'è sta cosa? Una tenda. Ecco qua. Mi sa che forse non c'è più niente. Ma è grande. Non si va più su, no? Basta. Così facciamo qua la foto. Sì, mi pare due piani. Scendiamo giù di qua? Perché non so che non ce ne ha altre, no? Vediamo se c'è altri piani. Qua ci siamo stati. Sì, mi pare due piani. Sì, mi pare due piani. Ciao, un attimo. Un attimo. Un attimo. Poi cosa c'è mai. Un attimo. Abaia gente. Grazie.